questo programma contiene linguaggio volgare un po di sofferenza e scene che alcune persone potrebbero trovare offensive darito di qua sarebbe figo che ci fossero i milioni infatti che potresti cambiare la cosa long che nella realtà alla fine così c'è tutto di cambiare quando andare più sopra vero cinghiali te lo dici no questo è un ungulato che cazzo sono sotto di qua ma sta venendo attaccato da un cane chi aspetta sono cervi uno ho visto è qui davanti due due sicure allora io dobbiamo decidere di passare io mi prendo la femmina e il maschio con la maschia e con la corna al mio 3 2 1 preso ma quanto cazzo siamo british non lo so calme la sangue è fredda perché ci ho sentito tutti adesso tu stai armato eh si 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 mi levo anche il mirino e altro perché c'era quell'altro alla safe sicuro ci avrà sentito vuoi che scanno la femmina o ci pensi te ah si penso io faccio il maschio ok il maschio è andato la femmina dove era? è qua ora non prendi il tutto? prima una squarta quello poi prendiamo su quello che possiamo io lo zeno mezzo volta Eh dai, butto su tutto. Carne, pelle, tiro su tutto. Adesso andiamo a vendere, vediamo se ce la fa vendere. Penso di sì. Non so. Ero curioso di vedere la pelle se la faceva vendere. Faccio anche il coso. L'amo. Prendo anche il lardo. Il lardo. Ma no, non amo quanto... vuoi un amo? Cosa ne faccio? Andiamo a pescare? No, vabbè, mi prendo... minchia le ossa quanto tengo. Prima prendo tutta la canna, poi... anzi, fanno i due diamio. Già fatti i due diamio. Non ce li teniamo avuti. Io ho fatto qui il lardo e non lo raccolgo. Sei full? Ah, full no? Sì, sono full. Mi sono fullato di carne. Lardo? Non me ne frega niente. La pelle, minchia la... La pelle me la voglio tenere in mano. Ah. Siamo andato avanti alla safe. Ti sei preso te il fucile in mano? No, ho preso la carne in mano. L'hai messo via il fucile quindi? Hai detto uno che metteva via... se prendiamo un fucile? Eh, fa lo stesso rumore. Andiamo. Andiamo. Qui è stata bella caccia, un colpo secco e via. Esatto. Vabbè che abbiamo dei fucili comunque sia, non so proprio da caccia eh, legale. Ma fa... Questo è bracconaggio, a casa mia, però va bene. Ma il B95 è la caccia. Eh, B95? Comunque va con più Winchester. Eh beh. Full militare, pistole, bracconaggio brutale. Se arriva la guardia di finanza, cosa state fettando? Ahahahah. Peccato che non funzionino le basi, perché se funzionasse amici ci prenderemmo la macchina e la mezzanella non è fucile. Ah, peccato per le basi, tipo non sai perché così, comunque sia, non sei costretto a fare pvp per sopravvivere. A meno, tipo, gente che non vuole fare pvp, prende e va a caccia, va a pesca. Vai, vai. Io sono entrato. Va a caccia, va a pesca, fa quel cazzo che vuole, sta nella sua basettina, fa i soldi e sopravvive. Andiamo? Ah, si vendono? In teoria. Te lo dico subito. No, non le fa vendere. A meno che... Dobbiamo andare a ROG. Però volendo potremmo... Allora, Kamishovo dov'è? E' qui. E' qui. Allora, seguimi ROG. Possiamo andare a vedere se l'ha messo o no. Io intanto slogo qua con la pelle, anzi, facciamo una roba. Se non vuoi tenerti un po' di carne, me la dai a me, io mi libero un po' di merra che ho. Via. ROG tre chilometri, dai vado a vedere a ROG se c'è qualcosa. Io slogo qui. ROG. Quindi andiamo dopo dai. Qualcosa c'è a ROG? So,еюсь, non cleare a ROG. Ehm. 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 He' deo. una volta roba ammesso, questo cosa vende? che vendono a ROG? vendono tutto, fucili, è omnicomprensiva quindi? vendono una roba da caccia qua, vendono tipo la Longor, BK18, Winchester, Mosin, Trumpet, B95, che vende nella roba? Fishing, questa è tutta la roba per pescare, e poi anche la pesca ci sta, la caccia no perché certamente poca gente che cazzo no comunque non puoi vendere qua, c'è la sezza però io ho provato a vendere la carne non me la prende, va a vedere c'è, qua c'è una, ci sono degli altri qui, questo è un nano, ma vendono i vestiti, altri vestiti, questa è quella della marijuana, vedi quello qua, se dobbiamo vendere qualche cosa andremo a ROG? eh no non te la fai vendermi anche qui, quindi neanche i pesci? no, ma però ti vendono tutto quanto il materiale per poterlo fare, infatti vendono i tool e non lo so, non so, infatti vendono i tool, faccio qualcos'altro? no, è un botto di roba proprio a ROG, l'hanno fatta tutta, l'hanno rilavorata tutta per, GB uscito i potenti media, se c'è nel tuo petio, hey blue waffle, c'è sto problema, ma se lo dirò, per una volta che c'è gene che non vuole fare spara spara, ma magari lo sanno già, perché non avendola neanche ufficializzata, comunque si, perché non c'è neanche scritto da nessuna parte, che solitamente la scrivono, più che altro mica GB, siamo andati a fare caccia grossa con FAL, M14 con ottica militare, vestiti fisio militari, tanta caccia non è, no vabbè ma però volendo, cioè ROG non è tanto distante da Electro, uno viene qua, per quanti soldi? una Longmore costa 200, la fai sua anche subito, Mosin 400, 600 il Winchester, ti vendono le ottiche, ti vendono proprio tutte le robe per fare proprio Fishing and Hunting, questo non ho capito perché, non mi fa vendermaccare, MIT, ma sono sbagliata, orve, 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 no manco, manco un tipo, più che altro perché, dovrebbe in mente quella di lupo, di maiale, di cinghiale, di maiale, venison, che dovrebbe essere quella di coso, non mi fa vendere mezzo, è che ce n'è uno specifico in alto, no, allora qua su in alto c'è un Hunting Scoop, per far comodo lo vendiamo per far comodo lo vendiamo porca troia per far comodo lo vendiamo per far comodo lo vendiamo per far comodo lo vendiamo